Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, c'è un sole oggi e voglio sfruttarlo anche per testare il nuovo telefono Il nuovo telefono preso, grazie, è pazzesco, grazie a Solidity, 1100€, tra l'altro mi ha scammato Amazon Ho preso il Google Pixel 9 Pro XL, è pazzesco, c'era il 6% di sconto per il Black Friday, allora ho detto vai lo prendo, 1099€ L'ho acquistato dopo 2 minuti, 15% di sconto, stava a 9,99€, io non lo so, non lo so, vabbè, lo testiamo qui Mi sembra un bel upgrade, fatemi sapere cosa ne pensate, allora parliamo di quanto vi costa non avere un'educazione finanziaria C'entra un po' con Solidity, che ganci ragazzi, iscrivetevi al canale, c'entra un po' con Solidity perché stamattina mi sono svegliato Come al solito, entrate nel gruppo Telegram di Solidity ragazzi, secondo link in descrizione Mi sono svegliato e c'era un take profit su OutCAD, sapete che cos'è Solidity, questo copy trading sul Forex passivo Molto stabile, molto a basso rischio Credo l'unico copy trading con delle performance così stabili da 18 mesi in profitto Corri pochi rischi, ne ho parlato tantissimo in questo canale Andate nel gruppo Telegram, lì potete avere tutte le informazioni, anche le istruzioni per agganciarvi E anche avere l'assistenza nella chat E io nella chat ogni giorno condivido quello che guadagno Ogni giorno arrivano take profit Stamattina mi sono svegliato e c'erano, come spesso capita, 62€ Che poi il 50% lo prende Solidity 31€ Ok? Quando prenderanno la commissione, netto per me 31€ Ora, 31€, no? Io ho pensato, stamattina mi sono svegliato e ho fatto 31€ 31€, che cos'è? Molto spesso la paga giornaliera, no? Di tantissime persone Tantissime persone che vanno a lavorare, loro per guadagnare questi 31€ E non hanno, e perché lo fanno? Soprattutto persone che magari sono anche grandi Magari avrebbero dovuto, con un'educazione finanziaria Per avere un gruzzoletto e magari essere in grado di metterlo a lavorare, no? Facciamo lavorare i soldi Io ho messo questi 21.595€ 21.595€ su Solidity E sono 800 Solidity ti fa il 4% al mese Quasi 800€ al mese 4% netto per il cliente Di media, quindi alcuni mesi di meno, alcuni mesi di più Tanto che è bello quando c'è il sole anche d'inverno, dai! E quindi 800€ Ma credo che questo mese, il mio primo mese, sia andato meglio Siamo sui 1000, 1100 Ho fatto video in cui dicevo appunto che ho guadagnato i miei primi 1000€ Poi sono diventati 1100 A novembre è andata molto bene Senza fare niente, ho fatto lavorare i miei soldi Questo vuol dire avere un'educazione finanziaria Ok? Far lavorare i soldi Qual è l'errore delle persone? Le persone non risparmiano Le persone... Metà persone non risparmiano perché non ce la fanno E vanno a lavorare Sono nella ruota del criceto No, vanno a lavorare per sopravvivere Poi ci sono quelle un po' più fortunate Che magari mi riescono a mettere da parte E la maggior parte di queste persone non investono Quindi non mettono a lavorare i loro soldi Il risultato? Il risultato è che non hai la possibilità di respirare Di tirare un po' la testa dopo tanti anni Io ho 40 anni Cioè, io ve lo dico Mi piace fare i video e quant'altro Ma sto per applicare un rallentamento Del mio stare attivo Lavorativamente parlando Posso permettermi di lavorare meno Di lavorare quando voglio Ma i miei coetanei No, vanno avanti Nessuno sta pensando di... Tutti che sto lavoro, lavoro, lavoro Ragazzi, vogliamo dirle una cosa Lavorare fa male Cioè, soprattutto Cioè, è bellissimo Se segui le tue passioni Ma andare a lavorare Perché ti servono i soldi E' una cosa A cui dovreste pensare anche Nessuno ha un piano Ha un piano di exit, no? Si fanno le exit per vendere le aziende Fate una cavolo di exit per uscire Dal vostro lavoro Nessuno lo fa Pensate veramente alla pensione E che cosa ci aiuta ad uscire? Far lavorare i soldi La gente quindi non ha questa educazione finanziaria C'è chi non risparmia Che non ce la fa Chi risparmia e non investe E quei pochi che investono Hanno un'educazione finanziaria Quindi non avere un'educazione finanziaria Ti costa tantissimo Cioè, tu ogni mattina ti svegli Per andare a guadagnare 30 euro Ricordati che c'è gente Che Ne fa molti di più Perché Fino a stasera Cioè Restando nel caso specifico di solidity Fino a stasera Faremo A parte che c'è un'altra operazione su AutoCAD aperta Quindi Presto faremo un altro take profit E poi C'è anche GPPNZD Ci sono due strategie Quindi Saranno molti di più di 30 Ci sono giorni che ho fatto anche 100 euro Senza fare niente Perché ho messo i miei 21.595 euro Probabilmente aumenterò Perché Come avete visto nel video di ieri Anche quel conto Da 2.082 Che ha messi su solidity 77.000 euro a novembre Però Devi avere un'educazione finanziaria Perché Senza un'educazione finanziaria Come fai a capire Che solidity è una grande opportunità Che il 4% al mese di netto Per il cliente È Veramente Un'opportunità Da non farsi perdere Soprattutto perché È partita da poco È stata testata Su 5 anni di riferimento Dal 2013 Al 2018 Sono stati fatti test Mai preso uno stop loss Se solidity fosse stata attiva E Io mi aspetto Nei prossimi 5 anni Come ho già detto Che andremo A fare profitti Sui mercati E tu non sai niente Perché? Perché stai andando Perché non hai la cultura E la tua cultura è Guadagno E compro oggetti Passivi Cioè oggetti che mi costano Lavoro Compro oggetti Lavoro 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 Mutuo Casa Il conto sempre a zero Il conto sempre a zero Lavoro e compro Tu devi lavorare E puoi comprare Asse Anche sarebbe intelligente Cioè cose che sono Tu puoi anche acquistare Cose che ti fanno guadagnare Acquisti un immobile Lo metti a rendita Acquisti Un investimento Un ETF E quello ti fa Il 10-12% all'anno Acquisti solidity E ti fa il 4% al mese Non ragiona così La stragrande maggioranza Delle persone Quindi la stragrande maggioranza Delle persone Si alza la mattina E ha il conto a zero Va a lavorare Fa 8 ore Per guadagnare Magari 30 euro Che io E tutti quelli Con un'educazione finanziaria Si svegliano E già ce li hanno Sul conto Perché chi Le ha prodotti Le ha prodotti I soldi Cioè È gravissimo Non avere un'educazione finanziaria C'è gente che non sa Che ha Che non ha neanche Un conto in banca Che ha il banco opposta Non sa cos'è Per esempio Trade Republic Io parlo non solo Di solidity In questo canale Non fa un piano D'accumulo sul Nasdaq Ci sono cose Gravi Cioè la maggior L'Italia è un paese Si io adesso andrò Settimana prossima Vado in Puglia Gente che Paga E mi interfaccerò Anche con amici Con i tani Che o non hanno O hanno il conto alle poste O non O non Pagano tipo 10 euro al mese Banche assurde Non conoscono le banche online Non conoscono gli etf Le azioni Non investono Lavorano E non fanno mai lavorare i soldi E lavoreranno E non hanno nessuna Prospettiva Di exit dal lavoro Continueranno Magari credono all'Inps Al più grande schema Pozzi Guardate che bella luce qui Questo Google 9 Pro XL Mi piace tantissimo Non hanno un piano per uscire E lavoreranno tutta la vita Basta C'è ancora la gente Che mi chiede Come va il lavoro Ma basta Ho 40 anni Ancora devo lavorare E adesso Basta Perché pensate sempre a lavorare Perché pensate a comprare oggetti Che vi tolgono il tempo Libertà Io non lo capisco E poi Non pensate mai A far lavorare i soldi Almeno A stragrande maggioranza Non avere un'educazione finanziaria Vi costa tantissimo In termini di Qualità della vita E quindi Che poi è legata ai soldi Cos'è un'educazione finanziaria? È capire Che un 4% al mese È una grande Percentuale Ritornando a Solidity Capire che Andare su Per esempio Nel gruppo Telegram Guardare I vari link C'è la sezione risultati Capire che Luigi Mattei Che ha creato questi bot È un talento Se ne sentirà parlare tantissimo Approfittarne Entrare Tanto è gratuito Con 500 euro Funziona Entrate nel gruppo Telegram Se vi interessa Nel 2025 Arriverà la terza strategia Eurofranco Svizzero Quindi andremo ad un 6% E non avere i soldi Un 20 40.000 50.000 100.000 euro Non avete 100.000 euro Nel conto Ma cazzo Io Io Se non avessi Soprattutto quelli della mia età Se state a zero sul conto Avete 10.000 euro È gravissimo ragazzi Soprattutto in Italia È un paese Che sta per saltare in aria Ora non voglio fare il negativo Vi costa tantissimo Che cosa avete fatto tutti questi anni? Avete lavorato Per esempio Hai 40 anni E hai 10.000 euro sul conto? Oh è grave Qualcuno ve lo deve dire Qualcuno ve lo deve dire È grave Cosa hai fatto tutti questi anni? Hai lavorato soltanto E poi li hai speso? Non hai risparmiato? Non hai investito? Ti costa caro Ora Perché poi l'età avanza Quando arriverei ai 50 anni Dovrai ancora andare a lavorare Ma ci rendiamo conto che io Ci sono Io ho una bambina Ci sono molti coetanei miei Che hanno figli Anche amici E i loro I nonni Non li possono aiutare Perché lavorano ancora Ma siete malati in Italia Siete malati? La smettete di lavorare? Perché continuate a lavorare? Non è che Voi continuate a lavorare Perché non siete organizzati Perché non avete un'educazione finanziaria Cioè Risparmio E investo Arrivo Passano 10, 20, 30 anni C'ho i milioni Se ho un'educazione finanziaria Se non ce l'hai Stai ancora a lavorare 60, 70 anni E Ragazzi È grave Quindi Per chi vuole Darsi una mossa Consiglio Entrate in Solidity Potrebbe essere la vostra prima esperienza Iniziate a capire cos'è Il mercato Del Forex Queste le valute Come funzionano i bot Come funziona l'investimento Depositare Aprire un conto su un broker FP Markets è regolamentato Quindi Attivo dal 2005 E Nel 2018 arriva in Europa In Italia regolato dalla Consob Cosa dirvi? Cioè E Poi col copy trading È tutto liquido Non dovete vincolare niente Potete riprenderveli quando volete Quindi imparate Fate un deposito Vi agganciate Poi scaricate metà tede Metatrader 4 Vedete le varie operazioni Come entra il mercato Come esce Iniziate a mettere Che so 1000, 2000, 3000 euro A fare il 4% Potreste lasciarli dentro I profitti E si attiva l'interesse composto Voi non sapete neanche Cosa Cioè non voi Non me la prendo Voi che mi seguite Ma dico La gente L'italiano medio Non sa cos'è l'interesse composto E quindi non lo sfrutta Einstein L'ha definito L'ottava meraviglia del mondo Possiamo Consoliditi Per esempio Mettiamo 10.000 euro Li lasciamo lì Con l'interesse composto Sì Possono diventare 100.000 In 5-6 anni Abbiamo visto che 500 euro Sono diventati 7-8.000 euro In 5-6 anni Voi non avete La pazienza Di aspettare Voi volete Cercate di fare Il colpo grosso Andate a comprare La meme coin La shit coin Il gratte vinci Ma voi dovete Invece Investire ogni giorno Far passare gli anni Perché poi Gli anni passano E voi continuate a lavorare Perché 10 anni fa Non vi siete organizzati Cazzo Iniziate adesso Tanto fra 10 anni Ci sarete Fate qualcosa Per il voi Di fra 10 anni Aprite un conto Su Solidity Secondo link In descrizione Canale Telegram Ma a parte Fate qualcosa Cosa informatevi Iniziate da lì Capite cos'è un ETF Guardate i video Su questo canale Ma smuovetevi Perché fra 10 anni Se state ancora A lavorare A avere il conto zero E non avete avuto E non avete avuto Una educazione finanziaria E quindi Non siete stati in grado Di patrimonializzarvi La gente mi guarda male Perché di là passano Ma questo che sta dicendo Non lo so Voi stiate andando a lavoro Io sto facendo un video Con un telefono Comprato nuovo Non l'ho comprato Allora voi Vedete Io avevo due strade Lavoro Faccio i soldi E vado a comprare Un telefono Un telefono Da 1.199 euro Non ho fatto così Ho preso 21.595 euro Li ho messi Su Solidity Dopo un mese Avevo Fatto 1.100 euro E sono andato A comprare il telefono Non l'ho comprato Con il mio lavoro Ma con I soldi Che hanno lavorato per me Questo vuol dire Avere educazione finanziaria Riflettete Fatemi sapere cosa ne pensate Commentate E Entrate nel gruppo Telegram Date un occhio a Solidity Che è una grande opportunità Ci vediamo nel gruppo Telegram Secondo link E con tutti gli altri Vi leggo nei commenti E ci vediamo ad un prossimo video Ciao Ciao